Giovane arrestato dai carabinieri mentre violenta una donna è successo alle due di notte in centro città Domodossola. Elicottero 118 precipitato sulla Monte Rosa, tanto spavento per il team, a bordo anche una guida ossolana Paolo Pettinaroli. A Omeni ha simulato l'allagamento dei locali del COC, esercitazione della protezione civile locale e provinciale. Primarie della PD a Verbagna si vota domani dalle 8 alle 20 per scegliere il candidato tra Brezza e Fornara. A Bogonia attestata la stazione di allerta sul rio Tocet, il suono delle quattro sirene però non raggiunge tutta l'area di Calami. Torna a Verbagna la 56esima edizione della mostra della Camellia in programma il 23-24 marzo a Villa Giulia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di BCO Notizia. Allora, la notizia è arrivata a metà mattinata ed è piombata su una città indaffarata negli acquisti della fine settimana. Parliamo di Domodossola e parliamo di quella violenza sessuale che si è consumata a metà della settimana che ci lasciamo alle spalle in un seminterrato di un palazzo in centro città. Una donna è stata prima malmenata, poi violentata, nello scantinato di un palazzo di Piazza Matteotti a Domodossola. È successo attorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì. Il responsabile del fatto è una senegalese che vive in città e i carabinieri hanno arrestato per violenza sessuale in flagranza di reato. Vittima invece è una donna, poco meno di 60 anni, che aveva trovato riparo per la notte nella sala d'attesa della stazione ferroviaria. Al 26enne, persona già conosciuta alle forze dell'ordine per reati legati al mondo dello spaccio e si trova ora in carcere a Verbania. Ad allertare i militari, l'altra notte è stata la telefonata di una terza persona presente nella sala d'aspetto in attesa dell'arrivo di un treno e al quale il senegalese, fingendosi addetto delle ferrovie, ha chiesto prima denaro o in subordine l'allontanamento dalla stanza. L'uomo, un cinese, alle forze dell'ordine ha raccontato i fatti, ha riferito di un giovane che ha trascinato con forza una donna in un palazzo vicino. Nel tragitto, la donna è stata infatti picchiata e caduta, abbattuto la testa. I carabinieri di Domodossola, con l'aiuto di una seconda pattuglia in arrivo da Villa Dossola, sono riusciti ad aprire il portone dello stabile e sentendo il rumore proveniente da sottoscala hanno raggiunto le cantine dove si sono trovati di fronte l'uomo ancora seminudo e che stava abusando della donna tenendola per i polsi. Lei, in stato di shock, è stata soccorsa e accompagnata al dia del San Biagio. I militari hanno anche confessato di essere già stata abusata la scorsa settimana dallo stesso uomo, ma di non aver denunciato il fatto. Il senegalese, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto. Inevitabilmente la notizia ha destato clamore e apprensione in città. Il segretario della sezione ossolana della Lega è tornato a parlare di problema sicurezza. Il caso, dice Stefano Cassani, è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Serve maggiore sicurezza a Domodossola. Il leghista manda un messaggio anche all'indirizzo del primo cittadino. vuole che si impari a Domodossola a girare a piedi, ma senza sicurezza, dice, è impossibile. E allora sentiamo come risponde a queste ultime parole il sindaco Lucio Pizzi. Appare, dice, davvero meschina la polemica della Lega in merito al tragico fatto, all'enfatizzazione della situazione di insicurezza pubblica che si vivebbe nella città. Si tratta di dichiarazioni semplicistiche, fuori luogo, che certificano incompetenza e superficialità, sia politica che amministrativa. Tengo ad evidenziare che la situazione di Domodossola resta comunque molto lontana dalle gravi criticità di altri centri che vivono quotidianamente. Resta purtroppo sempre possibile il caso isolato, ma le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente. Mi vede ancora costretto a ricordare che i responsabili della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica sono le autorità di pubblica sicurezza rappresentate dal Ministero dell'Interno e nei territori prefetto e forze dell'ordine e dal questore soggetti, peraltro, che possono operare solo con poteri a loro riconosciuti da norme approvate dal Parlamento, dove siedono anche i deputati della Lega. Dice ancora Pizzi, invece di invitare i domesi a non uscire più di casa, sarebbe meglio che la Lega operasse con maggiore serietà nelle sedi istituzionali. Al contrario, lanciare allarmi sicurezza in città chiedendo velitare interventi più decisi significa solo criticare asperamente il lavoro del prefetto, del questore e delle forze dell'ordine, a cui invece deve andare il nostro sentito ringraziamento perché da anni sono impegnati a servizio della comunità, confrontandosi spesso con carenze di personale e di mezzi. Queste le parole appunto di Lucio Pizzi. Ed ora invece parliamo dell'elicottero del 118 precipitato sul versante piemontese del Monte Rosa. Sentiamo. Un elicottero, il colta Augusta 139 del 118 di Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte, decollato nel primo pomeriggio di oggi dalla base di Borgossese e precipitato mentre stava effettuando un intervento alla capanna Regina Margherita sul Monte Rosa. Tutte e quattro le persone a bordo, pilota, tecnico del soccorso alpino, tecnico di volo e cinofilo, fortunatamente non hanno riportato grandi traumi ma sono state comunque trasferite in codice verde all'ospedale di Borgossese per gli accertamenti del caso. Al momento dell'incidente il personale sanitario si trovava al campo base in attesa di essere recuperati per la gestione del paziente. Il velivolo proveniente appunto da Borgossese era intervenuto nel primo pomeriggio per soccorrere una persona caduta in un crepaccio in un'area di confine con la Svizzera non lontana dal rifugio. La vittima della caduta è stata estratta ed è in vita. Dopo l'incidente, Air Zermatt e soccorso alpino baldostano si sono subito mobilitati in elicottero per raggiungere la zona e portare aiuto. in un primo momento era stato allertato anche il soccorso alpino locale del Verbano Cusiossola la decima delegazione del soccorso locale. Fa parte anche il tecnico che era a bordo dell'elicottero del 118 questo pomeriggio. Si tratta della guida ossolana Paolo Pettinaroli raggiunto telefonicamente e rassicurato sulle sue condizioni di salute e di tutto il team, compresa la persona recuperata rispetto a quanto successo. si è limitato a commentare, non sono un pilota, le mie competenze sono legate alla figura di tecnico del soccorso alpino. Ed ora andiamo su un altro teatro, quello di un'esercitazione di protezione civile a Omenia dove è stato simulato l'allagamento dei locali sotterranei del COC. Era già successo nel 2014, è rimasto nella memoria di tutti. Si era allagato perché era per le piogge l'ospedale. A piano terra dove ci sono tutti i servizi tecnici era assaltato tutto ed è stato evacuato l'ospedale. Beh, affinché un'operazione, una cosa leggera, non debba ripetersi allora è stata fatta da parte della protezione civile una simulazione. Cosa avete fatto esattamente qui questa mattina? Allora, questa mattina sono state testate due cose. Una, l'interoperabilità tra la squadra comunale di Omenia e il coordinamento che ricordo è un ente di secondo livello per cui riunisce tutte le associazioni, le squadre comunali della provincia del VCO. Il coordinamento ha le sue attrezzature, le squadre comunali hanno le loro attrezzature quindi oggi abbiamo testato questa operabilità nel senso che siamo venuti qui con alcune pompe idrovore del coordinamento e abbiamo testato l'attrezzatura della squadra comunale di Omenia. Questa è la prima parte. La seconda parte è proprio quello che dicevi prima tu, abbiamo testato quello che nel 2014 invece ahimè abbiamo provato sul campo effettivamente. Abbiamo provato nel 2014 a tenere il livello dell'acqua sotto a un piano di sicurezza, non ci siamo riusciti e quindi abbiamo dovuto evacuare l'ospedale. Adesso abbiamo attrezzature nuove, questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici dell'ospedale per vedere la situazione com'è, com'è voluta. Anche dal punto di vista tecnico adesso siete anche più preparati, anche con delle misure di sicurezza per impedire che l'acqua possa andare dentro al piano terra. Assolutamente sì, cioè in questi anni sia il coordinamento, quindi la protezione civile si è dotato di attrezzature più performanti. E adesso Assessore che cosa succede? Adesso succede che lavoreremo insieme al COC, al coordinamento provinciale, all'ASL e anche ai Vigili del Fuoco per stilare un piano di emergenza nel caso ci sia un allagamento del piano terra dell'ospedale Madonna del Popolo. Proprio perché dobbiamo essere sempre più preparati a tutti i contesti di emergenza che si possono presentare sul nostro territorio. La cosa importante è la sinergia tra i gruppi. Ora invece la politica che ci porta inevitabilmente a Verbania perché quella di domani sarà una domenica di voto per chi dovrà scegliere chi fra Riccardo Brezza e Chiara Fornara sarà il candidato a sindaco del PD. Vi ricordo che le urne saranno aperte dalle 8 alle 20. Subito dopo inizierà lo spoglio. Si vota dalle 8 alle 20 di domenica 17 marzo per scegliere il candidato sindaco del PD alle prossime elezioni amministrative di Verbania. In Lizza ci sono Riccardo Brezza, 32 anni, assessore uscente alla cultura, di professione consulente del lavoro e Chiara Fornara, 55 anni, direttrice del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. Sono quattro i seggi. Verbania 1 per i votanti delle sezioni elettorali dalla 1 alla 8 a Villa Olimpia nella sede del quartiere in via Mazzini a Pallanza. Verbania 2 per i votanti delle sezioni elettorali dalla 9 alla 13 alla Casa del Popolo di via Partigiani a Suna. Verbania 3 per i votanti delle sezioni elettorali dalla 14 alla 18 alla Casa del Popolo Arci di via Renco a Trobaso. e Verbania 4 per i votanti delle sezioni elettorali dalla 19 alla 30 al centro Rosa Franzi in corso Cairoli a Intra. Per votare è necessario avere almeno 16 anni ed essere residenti a Verbania. È necessario portare al seggio un documento di identità e il certificato elettorale e registrarsi, prevista una sottoscrizione minima di 2 euro come contributo alle spese. Possono votare anche i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno portando i documenti in loro possesso e votando al seggio 1 di Pallanza Villa Olimpia. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, quindi è possibile che già nella tarda serata si conosca il nome scelto. L'unico precedente di elezioni primarie a Verbania è quello del 2014 quando si sfidarono Diego Brignoli e Silvia Marchionini. I votanti furono 2150. Vinse Marchionini, sindaco ancora oggi, al secondo mandato. Ed ora uno sguardo alle elezioni regionali perché il PD del Piemonte ha trovato in extremis l'unità sul nome del candidato presidente alle prossime regionali e Gianna Pentenero. Siamo arrivati a questo momento con due emozioni, ha detto il segretario regionale Domenico Rossi, ma è maturato in quest'ora uno scenario unitario che vede la disponibilità di Chiara Gribaudo e Daniele Valle a fare un passo di lato e questo è un fatto possibile anche grazie alla disponibilità di Gianna Pentenero a candidarsi alla presidenza del Piemonte. Pentenero, 60 anni, il prossimo giugno conta una lunga esperienza in ambito politico, è attualmente assessore al Comune di Torino, è stata anche sindaco in provincia di Torino, in un piccolo centro. Dai primi anni 90 all'inizio 2000 era stata eletta anche in Regione nel 2005, aveva lavorato come assessore all'istruzione nella giunta Bresso, è stata rieletta nel 2010 in Regione, lo era stato nel 2014, ricevendo nuovamente l'incarico di assessore all'istruzione al lavoro nella giunta di Chiamparino. Sarà dunque Pentenero a sfidare Alberto Ciri, o governatore uscente, lo sapete, già candidato del centro-destra. E Alberto Preioni, per rimanere in tema, è stato l'ospite questa settimana del Sasso nello Stagno del nostro direttore a pochi mesi dal voto per il rinnovo appunto del Consiglio regionale e l'elezione del governatore, un bilancio sull'attività svolta, la trasmissione torna in replica domenica alle 14. L'ospite di questa settimana del Sasso nello Stagno è stato il consigliere regionale della Lega, il consigliere regionale piemontese, Alberto Preioni, che è anche il capogruppo del gruppo consigliare della Lega in regione Piemonte. Consigliere Preioni, qual è stato il tema che ha affrontato con maggior soddisfazione e che ha portato a termine in maniera positiva per la nostra provincia in questa legislatura? Ma gliene dico tre, perché sono veramente tanti. La, i canoni idrici, il salvataggio della provincia, quindi 14 milioni di euro tutti gli anni, per sempre nella nostra provincia, i 200 milioni a fondo perso degli ospedali, che vedremo assolutamente spesi nei prossimi anni, e la stabilizzazione del centro ortopedico di Quadrante di Omenia, che è un fiore all'occhiello, un misto pubblico-privato eccellente, che fa naturalmente una materia specifica, le protesi, eccetera, eccetera, ma è veramente, finalmente dopo 30 anni è stato stabilizzato pieno titola nel circuito pubblico degli nostri ospedali, mantenendo però le peculiarità e l'efficienza privata. Grazie. Grazie a lei. A Vogonia, venerdì mattina, il commissario prefettizio ha incontrato i residenti della frazione Calami. Perché? Perché il confronto voleva essere sul sistema di funzionamento della stazione di rilevamento idrogeologico posizionato sul rio Tocetta. Vediamo. Il scopo di questo incontro è spiegare alla cittadinanza il funzionamento della stazione di rilevamento idrometrico posto sulla ponte della Tocetta in località Calami, spiegare le norme di comportamento in caso di allerta acustica, quali sono le metodologie di funzionamento e per aggiornare tutta la popolazione sulle prospettive a breve termine che possono comportare il miglioramento della situazione di rischio idrogeologico nella zona di Calami. I residenti hanno sottolineato che il sistema di allertamento audio si sente poco distante da qui. Voi avete effettuato anche una prova? Noi abbiamo effettuato una prova empirica però la prova dovrà essere ripetuta con la strumentazione con un impianto di rilevazione fonometrico e dovremo poi andare a verificare che nel punto più lontano che può essere interessato dal rischio di esondazione il suono delle sirene arrivi nella misura che possa essere percepito in maniera distinta e che quindi raggiunga quel certo numero di decibel che la normativa prevede per questi sistemi di allerta. La sua permanenza a Bogonia sarà sino alla prima settimana di giugno, poi arriveranno le elezioni. Comunque a lei oggi i residenti hanno indirizzato alcune richieste relativamente proprio alla situazione idrogeologica di questa zona? Sì, ho fatto tesoro dei suggerimenti che mi sono pervenuti dalla cittadinanza e proverò a contattare lo studio tecnico che sta sviluppando il progetto di fattibilità per i lavori che finanzierà la regione nell'ambito di un quadro economico di 2 milioni per cercare di capire se questi suggerimenti possono essere recepiti all'interno del progetto. Ed ora cambiamo argomento, parliamo degli eventi del territorio perché sono stati svelati i nomi degli ospiti di questa edizione 2024 di Tons on the Stones. Gli stunt pilots da X Factor con la pesce di Martino, Carmen Consoli, Arturo Brachetti, Fabrizio Bosso, Telmo Pievani. Sono alcuni dei protagonisti dell'edizione 2024 di Tons Teatro Natura a Oira di Crevola d'Ossola. Quest'anno partiamo proprio inaugurando anche una nuova infrastruttura di Tons Teatro Natura perché con Ossola Outdoor School abbiamo completato un'importante infrastruttura per l'arrampicata e quindi la stagione parte con l'inaugurazione e con anche la possibilità per le persone di provare a rampicare a Tons Teatro Natura. Nella suggestiva cornice dell'ex cavaroncino gli spettacoli iniziano l'8 di giugno con gli stunt pilots trio pop specializzato in trap rock. Il 14 giugno con la regia del visionario illusionista Arturo Brachetti lo spettacolo Fred, omaggio a Fred Buscaglione con il performer Mattias Martelli e il trombettista Fabrizio Bosso. Dal 21 al 23 giugno il nuovo format Sfera che vuole toccare ogni aspetto dell'esistenza umana da quella intellettiva e quella emotiva fino alla cura del benessere e del corpo. Tra gli ospiti il celebre evoluzionista Telmo Pievani con un Alexio e sabato 22 giugno il concerto di Carmen Consoli. Sabato 29 giugno la serata di Ossola in Jazz con il duo Into the Wild Woods con Elisa Marangon, la contrabbassista Rosa Brunella e la sacerdotessa del sound medio orientale Jas Ahmed. Dal 18 al 22 luglio torna la maratona di Next Tones il festival dedicato alla più radicale sperimentazione nel campo dell'arte audiovisiva e della musica elettronica. Il concerto di chiusura sabato 7 settembre con Colapesce di Martino e il loro tour Lux Eterna Beach. A tutto questo si aggiunge un gradito ritorno, quello di The Witcher City il 13 luglio, la spettacolare e immersiva opera rock firmata dal fondatore dei Police, Stuart Copland, che vede protagonista Irene Grandi. La stessa farà tappa ad Assi il 25 di maggio, il 31 di maggio e il primo giugno agli Arcimboldi di Milano. Il prossimo sarà il primo weekend di primavera e allora a Verbagna torna all'appuntamento con la mostra della Camellia. Quest'anno è la cinquantasesima edizione ma ci sono anche tanti eventi a corollare. Mostra della Camellia di quest'anno, quali le prospettive? Le prospettive sono abbastanza buone, anche se inizialmente sembrava che facesse troppo caldo, per cui le fioriture sarebbero avanzate. Poi invece è stato un po' più clemente come stagione il tempo, ha fatto un po' quello che avrebbe dovuto fare e si sono fermate le fioriture. Adesso stanno ripartendo, credo che riusciremo a esporre almeno 200 varietà. Attorno al motivo centrale, cioè l'esposizione delle Camellie di cui parlavi, ci sono altre iniziative abbastanza consuete ma tra le quali spiccano anche le escursioni che mi sembra abbiano un programma quest'anno particolarmente nutrito. Sì, in aggiunta alle escursioni che abbiamo sempre organizzato nei giardini, nei parchi, nelle isole, quest'anno c'è come novità la visita all'Isola Bella. Chiaramente è un contorno che amplifica un attimo quello che il territorio può offrire, non soltanto riguardo alla Camellia, ma la Camellia diventa un motivo portante del turismo e anche di queste visite ai parchi. Io mi auguro che effettivamente poi attraverso anche il distretto turistico del Lago Maggiore ci sia una maggiore attenzione alla pubblicizzazione del nostro territorio. Effettivamente c'è una grossa ignoranza, tra virgolette, da parte di molto pubblico su quelle che sono le conoscenze del nostro meraviglioso territorio. Savioli diceva meraviglioso territorio, allora questa settimana Laghi e Monti vi porta alla scoperta di alcuni angoli del nostro territorio. parte da Domo Bianca 365, la stazione scistica di Domo d'Ossola, ma poi vi porta in un tour in alcune delle stazioni scistiche del comprensorio di Neve Azzurra, Laghi e Monti, in onda domenica alle 13.30 e poi ancora alle 19 e alle 23. Le anticipazioni. Nella nuova puntata di Laghi e Monti vi mostriamo alcune delle stazioni scistiche del comprensorio di Neve Azzurra. Partiamo da Domo Bianca, al Pelusentino, la stazione scistica di Domo d'Ossola, dove ci troviamo in questo momento. Vi racconteremo che cosa potete trovare qui, piste, ma anche diversi servizi. E poi vi mostreremo alcune altre sciovie presenti nel territorio ossolano, da Macugnaga alla piana di Vigezzo. Immagini bellissime perché come potete vedere in questo momento davvero c'è tanta neve, c'è tanta gente che si sta divertendo con gli sci o con la tavola, alcuni più esperti, altri ai primi passi. Abbiamo intervistato anche un maestro di sci proprio per farci raccontare quando è meglio iniziare con questo sport. In realtà abbiamo capito che non è mai troppo tardi. Allora Laghi e Monti vi aspetta come sempre la domenica, ore 13.30, ore 19 e ore 23. Ricordatevi di seguirci anche sui social e poi ricordatevi che tutte le nostre puntate sono disponibili sul sito internet vcoazzurratv.it, sezione turismo, Laghi e Monti vi aspetto. Allora delle immagini davvero belle, quelle che abbiamo appena visto sulla neve del comprensorio di neve azzurra, nevi che si prestano anche molto agli sport invernali ovviamente di casa nostra e noi parliamo proprio di sport ma la pagina sportiva quest'oggi è dedicata alla calcio, già perché nel prossimo servizio Daniele Piovera ci illustra quello che è il menù calcistico della domenica. Sentiamo. In serie di match casalingo per la RG Ticino che affronta all'alba una partita da vincere a tutti i costi per i ragazzi di mister Carrobbio che devono tornare in zona a playoff dopo il pareggio 0-0 con polemiche per alcune decisioni arbitrali maturato a Sanremo. Il Lagozzano al Bravi di Bra sfiderà i giallorossi locali, piacevole sorpresa di questo torneo. La squadra del nuovo allenatore espinale deve necessariamente muovere la classifica anche in vista del recupero di mercoledì quando alla Dalbertas arriverà la prima della classe al Cione Milano che domani tra l'altro affronterà nel big match di giornata la seconda forza del campionato il Chisola. Il Borgosesia invece se la vedrà di fronte ai propri tifosi contro il Dertona. Grande delusione di questo torneo. In eccellenza il derby tra Oleggio e Accademia Borgomanero promette sicuramente spettacolo con gli Orange che vogliono continuare il loro sogno nella rincorsa alla Serie D. Il Bule Belenzago ospite delle Verbagna in una sfida a playoff. La Pronovara affronterà il Lascaris, il Borgaro in casa con l'alpignano. Stresa Verganti e Aigreville mette in paio punti pesanti per la salvezza. Volpiano Pianese e Biellese vede il debutto sulla panchina laniera dell'ex giocatore delle Verbagna del Borgomanero, Rota. La prima della classe invece il Borgaro affronterà in casa nella derby l'alpignano in promozione. Il Briga, primo in classifica, affronta il Ceversama, il Baveno in casa contro la Fulgo, Ronco o Valdengo. Il Ferriolo affronterà questa sera la Juve d'Omo alla Curotti. Nell'anticipo Casale, Valdirana Biogliese, Chiavazzese, Momo e la sfida a playoff tra Omenia e Trino completano la giornata. In prima categoria non mancano le partite interessanti a cominciare dal derby tra Ornavassese e Gravelona-San Pietro, uno degli ultimi ostacoli sulla strada della promozione per i ragazzi di Lipari. L'Union Novara riceve la Cannobiese e la Trecate va a Sizzano. Attenzione anche al derby in chiave playoff tra Bagnella e Piedimolera. È veramente tutto, grazie, buona serata, buona domenica.